Quando sono venuto ad Arco nel 1951, uno dei problemi era la tubercolosi, perché non c'è ombra di dubbio che la tubercolosi influiva enormemente non solo sulla popolazione, ma anche su una mia vecchia simpatia, la quale se andavo a Roveretto andava bene, ma se non andavo a Roveretto lei ad Arco non veniva perché aveva paura. Mi ricordo ancora che c'erano delle persone che passavano in corriere e si mettevano il fazzoletto davanti alla bocca perché avevano paura di ammalarsi. Arco era considerata la sputacchiera d'Italia, questa era la verità dei fatti. E quindi questo è il frutto. Ma perché voglio dire questo? Voglio dire questo perché io preparavo litri di soluzione di eroina, quell'eroina che oggi viene spacciata e viene adoperata. E davamo anche iniezioni di eroina. Perché si dava l'eroina? Perché allora siccome non c'era la streptomicina, siccome non c'era la rifamicina che sono i due antibiotici che hanno eliminato il bacillo della cocca, ragazzi, la tubercolosi imparava, la tosse era talmente forte che il sedativo principale che dava meno disturbi era l'eroina. Io la facevo arrivare a chili, a chili, vedete conto a chili, come la cocaina, perché l'anestetico che si adoperava allora, specialmente per l'anestesia agli occhi e per altre problematiche, era la cocaina. Si faceva una soluzione e veniva iniettata come anestetico. Adesso ci sono tutti infinti di altre cose, poi c'è tutta l'induzione farmaceutica, ma i primi tempi facevamo noi queste robe. Allora, che cosa però succedeva? Questi ammalati che prendevano l'eroina. Come si comportavano? Come gli alcolisti? No. Erano aggressivi? No. Erano persone tranquille? Sì. E normali? Anche. Perché non davano. C'era un problema in caso di astinenza. Ecco, però per chi prendeva le gocce, siccome non era un dosaggio molto forte il problema, però ne risentivano. Allora, secondo mio parere, chi ha Arco c'erano 350 drogatti, perché se noi tolleva l'eroina uno la prendeva quell'altro, insomma, noi siamo stati 350, ma comunque c'era una grossa percentuale. Perché ho evidenziato questo problema dell'eroina? Perché non c'era problema di aggressività. Mentre gli alcolisti, che allora erano molto di più di quelli che ci sono adesso, perché il sabato sera che ne era Pudeu che portevamo a casa perché era stinco per terra, ragazzi, parliamoci chiari, perché il sabato sera era un'evasione, il contadino, l'altra sera andava a giugare a carta e il bincese rosso, il bincese rosso e il fiamballo che va bene. Però quelle persone che avevano a che fare con l'alcol, alcune erano tranquille, ma molte diventavano aggressive, non era una cosa semplice. Mentre non mi risulta, per la mia esperienza, che l'eroina desse questo genere di disturbi. L'astinenza, questo in qualcuno, quando è arrivata la streptomicina, che ha eliminato praticamente la tubercolosi, quindi la tosse diminuiva, qualche soggetto ne ha risentito perché c'è stata subito delle limitazioni, hanno messo ricette, allora qual è il pensiero del Tamanini? Qui faccio certamente scandalizzare qualcuno, liberalizzare la droga. L'eroina costa niente, la cocaina costa niente, ma qual è il sistema? Il sistema è che siccome se io compro un grammo di cocaina, tanto la tagliano, perché, ma diciamo, lasciamola anche pura, la comprano a uno, la vendono a 100, la vendono a 200, quindi io che sono quello che compra e vendo, ho tutta la convenienza a fare in modo che ci siano altri che adoperano questo sistema di droga. Perché? Perché ci guadagno. Allora, se noi liberalizzassimo tutto sarebbe finita, sarebbe finita. Che problema sostengono quelli che sono cronti? Che se lo facessimo solo in Italia tutti venirei qua in Italia, eccetera. Certo che è un problema, però in America, pensate, quando c'era il provvizionismo dell'alcol, cosa succedeva? Ditemelo. La mafia ha trionfato. C'era una corruzione incredibile sull'alcol. Quando l'hanno liberalizzata è finito il problema. Io la mattina vado al caffè, diciamo, non facciamo nomi per non fare propaganda, e vedo davanti a me il gin, il whisky, la grappa, perché nel bar dove vado io sono là tutte esposte. Ma a me non mi è mai venuto la mattina ad ordinare un whisky o una grappa? No. Eppure è lì. Potrei prenderla. Allora io sono convinto che se l'eroina fosse là, non ci fossero le persone che sollecitano le persone ad operarla, che gliela danno magari gratis le prime volte. Questo non avrebbe. Poi siccome ci si guadagna una barca di soldi, il problema è che le tagliano. Tagliare vuol dire la polvere di cocaina aggiungerà altre polveri inerti. L'eroina è la cosa più pericolosa, perché mentre la cocaina la snifa, l'eroina molte volte non solo non la snifano, ma se la iniettano e se la iniettano in vena. Allora se il taglio è fatto con sostanze che sono compatibili, ma a volte non sono neanche compatibili, quando voi sentite che è morto per la droga è perché ha fatto un'iniezione con un'eroina tagliata con sostanze che non erano assolutamente compatibili con il nostro organismo. Quindi il sostenitore della liberazione droga si chiama Carlo Tamanini. Dopodiché ci sarà un'infinità di persone che dirà che sono impazzito.